tonda party 2024 stefano carlo vecoli stefano carlo vecoli è nato a viareggio in tempo per attraversare nella sua adolescenza i passionali anni 70 architetto e docente nei licei di disegno e storia dell'arte sul suo biglietto da visita ha scritto architetto e varia umanità a indicare i molti interessi artistici e culturali coltivati in tutta la sua vita passata e futura deliziosamente ironici e divertenti i personaggi di stefano carlo vecoli raccontano un mondo senza tempo dei ninfe draghi mostri folletti principesse cavalieri immagini arcaiche che in un gioco sapiente di segno e colore si vestono del presente e con fare burlone mettono a nudo piaghe e difetti di questa nostra umanità archetipi che attraverso un linguaggio simbolico riflettono strutture psicologiche universali